Domenica 1 dicembre 2019. Mancano 30 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del sagittario. La chiesa ricorda Sant'Eligio Vescovo. L'onomastico. Oggi l'onomastico di Eligio. Il nome ha origine latina medievale e significa scelto. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 1 dicembre del 1913 la Ford introduce la catena di montaggio, riducendo il tempo di assemblaggio dalle 12 ore e mezza di ottobre a 2 ore e 40 minuti. Anche se Ford non fu il primo a usare la catena di montaggio, il suo successo diede avvio all'era della produzione di massa. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al regista Woody Allen, nato a New York il 1 dicembre 1935. Artista dallo stile raffinato e cerebrale, Woody Allen è considerato un punto di riferimento della commedia americana moderna, nonché uno tra i principali umoristi dell'epoca contemporanea. Le frasi del cinema. Tu sei ciò che ami, non ciò che ama te. Dal film Il ladro di orchidee. Proverbio del giorno. Se vedi la porta spalancata, entra con prudenza. Proverbio calabrese.